Ora andiamo a cercare la nostra chiaretta, come è andato ieri l'intervento, vediamo dov'è lei, cosa è successo e per aiutare a guarire più velocemente. 3, 2, 1. Sei riuscita a trovare? Sì, la guardo all'ospedale nel suo letto. Ah, ancora? Ok. Però è molto stanca, non ha chiuso gli occhi. Per il dolore. Per il dolore. Ah, guardiamo questo, chi causa così molto questo dolore, fisico dolore ma anche eterico. Vediamo con gli occhi eterici cosa, chi sta causando questo dolore. 3, 2, 1. Meno, chiedeteli. All'intervento hanno montato un apporecchio al naso. Ah. Come dire, dove c'è il naso, questo osso, non dove sono le narine, è vero quello l'osso che va dagli occhi fino al puntato il naso. Ok. Questo è l'osso, era un po' storto da chiara, no? E il dolore l'hanno spaccato e quindi in questo osso dove l'hanno spaccato c'è due fissure, no? Uh-huh. E in queste due fissure è montata una cosa in metallo, un apporecchio, no? Ok, allora chiamiamo queste. Adesso smontare. Placche, tipo placche. Devono smontare queste placche tranquillamente. 3, 2, 1. Sì. Sì. E buttiamo con tutti questi rettili, rettiloidi, buttiamo fuori in portale. 3, 2, 1. Sì. Ora facciamo una guarigione, guarigione dell'osso spaccato. Vediamo come funziona. Allora ho preso dal sole l'energia e ho messo direttamente tra le ossa e si calcifica più velocemente con meno dolore. Allora vediamo come sta facendo il sistema immunitario e come si trova il suo corpo a 3, 2, 1. L'astralia è in piena funzione, anche il sistema immunitario. Adesso togliamo la narcosia e l'anestesia. Ok, togliamo dalle ipofisi, togliamo l'anestesia, tutta piena anestesia, tutta questa... Dal sangue anche. Dal sangue, puliamo il sangue, l'info e tutti questi, come si chiamano, i liquidi nel corpo che si trovano. 3, 2, 1. Sì. Che non si fanno nessun... Danneggio. Come si chiamano? Danneggio, che nessun trombosi, nessuno, niente nel sangue. Sangue pulito, pulito, pulito. Sì. Trasfusione. Trasfusione. Abbiamo eliminato tutti questi nocivi... C'erano una particella nano. Non so. Ah, ok, ok, ok. Allora, come si può diminuire il dolore nel naso? Dove c'è questo puntino che possiamo diminuire questo puntino del dolore? Nel biocomputer, nel nostro cervello. C'è registrazione nel cervello tramite i neuroni. Questi neurotrasmettitori. Ok. Tipo che trasmette il dolore del fatto dell'operazione. non è un registro. No, come un registro informatico, né? Che è rimasto? Allora, eliminiamo questo, 3, 2, 1, del campo informatico. Nessuno ha rubato quando lei c'era senza... sotto sotto narcose? Cosciente. Ah, nessuno ha rubato parte subliminale del dolore? No. Ah, lei era protetta in questa protezione che tu hai fatto? Sì, nel senso che anche lei c'era a fianco, no? Ah, sì. Io vedo che è come fosse anche io lì con lei. Ah, ok. E lei era a fianco a mio, che stavamo guardando. Ah, ok, ok, ok. Però poi mi sono andata via. Ok. Lei è rimasta da sola e in quel momento ho ritirato a me su questi impianti. Anche nella golla, vedo. Ok, ok. Togliamo anche fuori dalla golla, 3, 2, 1. Perché come anche a me, per i polipi, hanno messo tipo un vassoio, un tipo di vassoio per la golla, no? Con un tubo che raccoglie sangue per i polipi. Ah, ok, ok. Tutta la golla, puliamo tutto il suo corpo, puliamo tutto. E quindi questa golla è un po' irritata, no? Un po' raschiata. Ok, allora facciamo guarigione adesso. Si riempie tanto, 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 tanta energia del sole, guarigione. Cosa possiamo inserire ancora per guarire più velocemente nel corpo eterico? Cosa possiamo dare? Fortuna perché il sistema immunitario è tutto quanto? Sì, per rinforzare, possiamo dare fortuna. Ok, e anche tutte erbe di Dr. Robert Moss? Sì. Sangue, linfa, tiroide. Le osse. Ok, calcificazione. Bene, ok. Come si sente adesso, Chiaretta? Sta meglio? Adesso si tocca il naso, muove il naso così, dice, sento me, non amare. Ok, ok. Allora, tanto amore, tanto amore e buona guarigione, tesoro. Ok? Ok. Allora, tanto amore.